Un dubbio inquietante mi sorge spontaneo. Ben ritrovato amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Allora, Pasalic ha fatto una dichiarazione dove ha spiazzato praticamente i tifosi della Juventus. Pasalic cosa dice? Però quando dico quello che sto per dire, mi deve ascoltare, sia Allegri che i giocatori della Juventus. Perché grave questa dichiarazione? Noi, lo schema Coop Myers non ci riesce mai perché le squadre avversarie ci studiano. Ben ritrovato amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Ma a me mi viene spontaneo dirlo. Ma allora, in allenamento, cosa mi inchiafate? Iscrivetevi al canale amici bianconeri perché andremo ad approfondire questo schema Coop Myers. Il gol che la Juve ha subito su calcio di punizione. E allora, iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina. Così non vi perdete mai un video. E siamo sempre live, lei si d'incita in mente, madame messia e signori e signori, i miei signori, quelli veri e quelli, i gobi bianconieri della vecchia signora. Rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. Quando io ho sentito personalmente le dichiarazioni di Pasalic, il sangue mi si è fatto ghiaccio. Perché un giocatore che dice, noi questo schema lo proviamo sempre in allenamento, chiamato lo schema Coop Myers. E non ci riesce mai. Perché le squadre avversarie ci studiano. La mia domanda che voglio fare ad Allegri, il giocatore, è proprio questa qua. Ma se gli altri studiano in allenamento, poi in allenamento, ma cosa fate? Mangiate popcorn, mangiate patatine, giocate a 3-7, vi fate la scopetta. Cioè, io non lo capisco. Come mai questo gol lo deve subire la Juventus? Perché è un gol da polli. Cioè, un gol così si subisce solo in terza categoria. E allora a me, mi sorge spontaneo ovviamente dirlo. Ma, signori, ma siamo sicuri che con Allegri la squadra si sta allenando bene. Perché collegandomi onestamente alle dichiarazioni di Danilo che vi ho raccontato stamattina, quando dicevo che i giocatori dopo il pareggio di Emboli mentalmente ormai sono finiti, è impossibile che i giocatori, come dire, si sfaldano così subito dopo un piccolo pareggio, visto quello che abbiamo passato lo scorso anno. Allora, sotto c'è veramente qualcosa di grande che bisogna capire. Ma non lo devo capire io. Lo deve capire la società. Perché, ragazzi, dobbiamo sempre chiarire le cose. La Juve è una media da retrocessione. La Juve mette a repentaglio seriamente la qualificazione Champions. Cioè, io in questi tre anni, quello che voglio capire è quello che non riesco a capire. E sto uscendo pazzo. Come dicevamo in siciliano, ci tenisci e non fuori. In allenamento ci si allena perché si chiama allenamento per allenarsi. Perché se no ce ne andiamo al bar a giocare a carte. Perché nel momento in cui non riesce uno schema, non possiamo fare dei passaggi consecutivi, non ci riesce mai la giocata, giochiamo solo in orizzontale, perché onestamente la verticale a loro, forse per verticale intendono la verticale dei ballerini. Non lo so. Non lo so. Onestamente inizia avrei dubbi. Io voglio che queste mie critiche non vengono prese a male. Perché io amo la Juve. Io sono quello che va dallo stadio. Io sono quello che, ragazzi miei, metto la mia di sciarpa che ce l'ho qui. Io metto la mia sciarpa. Me la metto al collo. Me la torciglio così com'è. Ragazzi. E sono qui insieme a voi. E sono qui insieme a voi. Io sono sempre con la mia Juve. Porto sempre nel cuore il mio luogo. Sempre, sempre, sempre. Ma mi arrabbio quando poi vedo, no vedo, sento queste dichiarazioni degli avversari che quasi ci prendono in giro. Perché onestamente mi sono sentito presa in giro da Pasalic. Cioè non ci riesce mai lo schema perché le avversari ci studiano. Mamma mia ragazzi. Ma è possibile che perfino l'Atalanta deve prenderci in giro a noi? Che l'Atalanta in vita sua non sa cos'è vincere un trofeo. E ci prendono in giro, ragazzi. Ci prendono in giro. Io onestamente mi sento preso in giro. Ma la società, io voglio ripeterlo. Cosa sta facendo? Perché dobbiamo subire tutto questo? Perché i tifosi dobbiamo subire tutte queste angherie? E poi voglio pensare una cosa apposito di tifosi. I fischi, per chi non lo sa, sono partiti dagli altri settori. Ragazzi, non possiamo condannare la Curva Sud se parte della Curva Sud. Non tutta ha indonato un cuore per Allegri. La Curva, lo ripeto, la Curva serve per incitare. La Curva serve per sostenere anche lo stesso Allegri che è in banchina. Io sono qui, io faccio parte della Curva, ci mancherebbe altro. Poi è una mia scelta se voglio fare il coro meno. Ma la Curva non sta sbagliando a sostenere Allegri e i giocatori. Perché la Curva, gli ultras, si servono per questo, per sostenere la squadra nei momenti più difficili. E quando dagli altri settori partono i fischi, parte la rabbia. Parte la rabbia. I giocatori non vanno fischiati. Come lo stesso Allegri non va fischiato in campo. Allegri non va contestato in campo. Deve essere la società a prendere certe decisioni. Mettetevelo bene in testa. Deve essere la società a prendere certe decisioni. Non cambia niente. Se i tifosi contestassero Allegri e la squadra, non facciamo che peggiorare le cose. Non serve a niente contestare. Dobbiamo stare vicini ai giocatori. Perché i giocatori fanno parte della Juve. E poi ci sono giocatori che non meritano la maglia, che non sono da Juve e hanno un altro paio di mani. Che mentando vanno sostenuti. Ma le decisioni li devi prendere la società. I provvedimenti li devi prendere la società. Anche con lo stesso Allegri. Fargli una domanda. Ma quando Pasoli ci fa queste dichiarazioni. Allegri. In allenamento. Cosa fai? Cosa fai? Ragazzi. Questa è la domanda che dobbiamo farci. Questa è la domanda che dobbiamo farci. Noi stessi parlo allo stesso mister. Cosa fate in allenamento? Cosa fate se poi non portate i frutti e i risultati? Ragazzi. Io spero che sono stato chiaro con le mie dichiarazioni e la mia parte critica. Deve essere una critica costruttiva. Spero che sono stato chiaro anche riguardante la curva e i tifosi per chi sostengono Allegri e i giocatori. Perché ragazzi. Gli ultras servono per questo. Sostenere sempre al di là della vittoria. Certe decisioni. Come da 130 anni li ha presi sempre e dico sempre la società. deve continuare a prendere la società. Poi io posso essere d'accordo o meno con Allegri. Io onestamente dopo gli ultimi risultati non posso essere d'accordo con Allegri. Ci mancherebbe altro. Ma è a vista di tutti. Io ho cercato di difenderlo finché ho potuto. Ora sono stanco. Spero che la società faccia chiudere questa stagione. Se non prima addirittura che rischiamo la Champions di cambiare rotta. Sia la parte del mister che far capire ai giocatori che quando si indossano questi gloriosi colori bisogna dare il 100% e non deprimersi a primo pareggio. Fino alla fine forza Juventus. Chimi ne vaio. Ossabene a tutti i picciotti. Ciao.